Buon pomeriggio a tutti da Pietro Spataro. Allora, prima di iniziare il video voglio ringraziare a Davide Siracusano o Nati per Vincere. Lo youtuber si chiama Nati per Vincere e vi voglio far dimostrare un video. Guardate. E ancora, alcune considerazioni. Allora, una fondamentale è che Ronaldo penso che non sia niente di grave. Almeno da quello che filtra, il ragazzo dovrebbe esserci al 100% per la partita di Coppa dei Gambioni. Per l'andata quando non è adesso. Infatti l'ho detto io. Poi vorrei fare un saluto a Pietro Spataro, questo ragazzo che ha aperto ora il canale su YouTube. È un bravo ragazzo, veramente un ragazzo in gamba. È giovane, quindi la vediamolo, facciamo gli crescere il canale perché se la merda. Vai Pietro, massiccio e incazzato. Mamma mia. Grande Davide. Mi hai fatto davvero emozionare. Sono contento per te. Io ti manderei un cuore. Allora. Allora. Tornando a noi. Tornando a noi parliamo di calciomercato. Allora. Che sarebbe una Juventus del futuro nella stagione 2019-2020? Allora. Vi dico i nomi. Allora. Nei portieri è a posto la Juventus. Giusto? Rapperin e Cesni. Io li darei. Allora. In difesa. Barzagli si retirerà a fine stagione. E io adoro di più puntare su Delikt. Classe 99. Quasi 20 anni. E io punterei su questo. Se la Juventus dovesse prendere Delikt, è al sicuro da tanti anni la Juventus. Poi se non dovesse venire Delikt, la Juventus punterà o tra Manolas o Coulibaly. Per me Coulibaly adoro. Perché è un ottimo difensore del Napoli. Poi nella fase terzino-destro. Allora. Io adoro puntare. Io nei terzini-destri forse un po' sono al sicuro. Tra... Nella fascia di destra, tra Quadrado e Cancelo. Giusto? De Scioglio è una riserva. Quasi quasi lo venderei. Punto. Poi nella fase terzino-sinistro... Per me dovrebbe partire Alexandro. E puntare su Alexander-Arnold. Del Liverpool. Se vuoi vedere un altro terzino-destro migliore di Alexandro. Alexander-Arnold. Con Leonardo Spinazzola. E sta facendo molto meglio di Alexandro. In questa stagione. Poi nella questione centrocampo. Allora. Al centrocampo per me... Dovrebbe... Dovrei... Preferisco che Dira verrà ceduto. Perché... Non aiuta più la squadra. Lento è. E per me andrà via. Per me... Dovrebbe... Essere il benvenuto a Ruben Neves. Quello portoghese, no? Poi... Pjanic è sostituibile. Dicono. Che... Che punteremo su Don Belè. Quello del Lione. Poi... Poi... In Bentancur e Neme Regione dovrebbero rimanere. Quasi quasi... Ma i tuoi di... Sta cominciando ad avere la sua età. Poi... Andiamo sull'esterno... Sugli esterni di centrocampo. Allora Bernardeschi per me... Rimarrà. Poi... Douglas Costa non l'ho visto mai in questa stagione. Che... Nella fase di esterno... Per me dovrebbe... Quasi quasi andare via Douglas Costa. E... Tra... Indeciso tra... Chiesa. Della Fiorentina. E poi... Di Bala deve fare... Deve giocare tanto di più. Però forse perderebbe il... Perderebbe lo spazio di Bala però. A monodesto parere. Se dovesse arrivare Chiesa. Poi... In attacco. Allora... Per me... Mandzukic per me... Preferisco che sarà ceduto. Ho visto che... Hanno rinnovato un contratto fino al 2021. A Mario Mandzukic. Che serve rinnovare il contratto? Per me è stato un errore. A Rugani gli hanno fatto pure rinnovare il contratto. Poi dovrebbe rinnovare il contratto. Ken, no? Che è giovane ancora il ragazzo. Per me è in scadenza. Dovrebbe rinnovare il contratto. A quel giovane ragazzo. 19 anni. Di 19 anni. Poi... Sull'attacco nella seconda punta preferisco puntare su Joao Felix. Perché Joao Felix? Che è fortissimo. Joao Felix. Così un po' di ringiovanimento di rosa... Mi farebbe comodo. Perché... Quest'anno la Juventus è già più vecchi che giovani. A mio modesto parere. Vabbè raga. Non ho nient'altro da aggiungere. Questo è la Juventus del futuro della stagione 2019-2020. Ho visto alcune maglie della Juventus che... Pare che quasi sia ufficiale. Allora. Nella metà... È... Tra... Dalla parte nera e dalla parte bianca con la metà che c'è rosa. Poi dietro c'è un quadratone nero. È nella scritta Jeep senza la toppa. Per me non mi conviene. Sta... Maglia. Alcuna... Alcuni... Alcune persone dicono che... Non ci piace. Questa maglia e i tifosi della Juve. Per me è un peccato. Quindi. Come ho detto io nel mio precedente video. Ronaldo. Ci sarà dalla partita al 100% all'andata contro l'Ajax. Va bene? Ok raga. Ho detto tutto. Se il video di... Grazie è nati per vincere. Se il video di oggi vi è piaciuto. Vi invito. Di lasciare un mi piace. Di commentare qui sotto. Di condividere. Iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto. E se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Vi voglio bene a tutti. E ci vediamo fra... Fra qualche giorno. Ci vediamo domani per i pronostici della 29esima giornata di serie A. Ciao e forza Juve. Ciao belli.